Quando questi due gemellini sono venuti al mondo, dottori e infermieri hanno fatto a gara per fotografarli e prenderli in braccio. Le differenze fisiche tra loro hanno incuriosito molte persone e li hanno resi famosi a poche ore dalla nascita. Alcuni gemelli sono identici tra loro, mentre altri condividono solo qualche tratto estetico. A prescindere dal loro aspetto fisico, però, sono senza dubbio adorabili. Quando David e Daniel sono nati, i medici e gli infermieri dell'ospedale sono rimasti a bocca aperta. Ma non solo per il loro aspetto tenero e delicato. Questi due gemellini, infatti, sono un vero e proprio miracolo della natura. I loro genitori, Stacy e Baba Hide, avevano già una figlia femmina quando hanno scoperto di aspettare due maschietti. La bambina non vedeva l'ora di avere due fratellini con cui giocare, e il resto della famiglia condivideva il suo entusiasmo. Quando Stacy è entrata in travaglio, i medici l'hanno portata subito in sala operatoria per procedere con il cesario. È in quel momento che hanno assistito ad un fenomeno mai visto prima in Nigeria. Stupefatto, il chirurgo ha riferito subito alla mamma che i bambini erano in ottima salute, ma tutt'altro che identici. Stacy si aspettava due figli simili, se non uguali, ma non poteva immaginare che distinguerli sarebbe stato molto più semplice del previsto. Daniel è nato per primo. Così, quando il dottore ha visto il fratellino David, non ha potuto fare a meno di commentare sui suoi capelli color oro. Le infermiere hanno scostato la tenda che separava Stacy dai gemelli e le hanno permesso di guardare i suoi gemelli diversi. David era bianco come il latte. I medici hanno fatto entrare in sala party il papà, che è rimasto confuso a sua volta. In Nigeria non si è mai visto niente di simile. Io personalmente non avevo mai assistito ad una scena così speciale. Hanno dei tratti somatici in comune, ma hanno la pelle e i capelli completamente diversi, ha commentato Baba Hida. I due fratellini hanno in comune gli occhi marroni, ma se Daniel ha ereditato la tipica pelle scura e i capelli neri dei genitori, David ha una carnagione molto chiara e dei bei boccoli biondi. I dottori hanno chiesto subito alla coppia se avessero parenti lontani dalla pelle chiara, ma in entrambi i casi hanno risposto di no. Il caso di David, infatti, è ancora più interessante dal punto di vista medico. Il bambino, infatti, è affetto da una condizione chiamata albinismo oculocutaneo, che causa una produzione ridotta dei pigmenti di melanina che colorano la pelle, i capelli e gli occhi. È un'anomalia che si manifesta in tutto il mondo con una frequenza pari a 1 su 20.000 nascita, ma in Africa è leggermente più diffusa e tocca punte di 1 su 1.000 nuovi nati. Attualmente non esistono statistiche per le coppie di gemelli in cui l'albinismo si manifesta su un bambino solo, anche se casi simili sono già stati osservati in Mozambico e nei Paesi Bassi. Quattro giorni dopo la nascita, i gemelli e la mamma sono stati dimessi dall'ospedale e sono tornati a casa. Quando i loro familiari li hanno visti, hanno avuto una reazione comune di stupore e meraviglia. Da quel momento sono passati tre anni e Daniel e David hanno continuato a suscitare interesse in tutte le persone che li hanno incontrati. Recentemente hanno cominciato la scuola, dove entrambi hanno espresso una buona propensione allo studio. Il primo giorno di scuola Stacy ha dichiarato «Stavo aspettando questo giorno da tanto tempo. Oggi comincia un nuovo capitolo della nostra vita. È il primo giorno di scuola e non potrei essere più emozionata. Sono grata al Signore per avermi regalato questi bambini meravigliosi. La mia benedizione più grande». In classe i bambini sono in un mondo diverso, protetti dagli sguardi indiscreti della gente e spinti a concentrarsi soltanto sulle materie scolastiche. Appena escono, però, vengono presi di mira dai curiosi, che si avvicinano affascinati a quelli che pensano siano semplicemente buoni amici, ma che in realtà condividono gran parte del corredo genetico. «Ogni volta che usciamo insieme mi fanno mille domande. La gente si avvicina e mi chiede «Signora, di chi è il bambino biondo che tiene per mano suo figlio?». «Quando dico che è mio, mi guardano come se fossi ubriaca», ha raccontato Stacy. Daniel e David ricevono molte attenzioni anche sul posto di lavoro del papà. Baba Hide li porta spesso con sé quando non devono andare a scuola, e tutti i suoi colleghi fanno a gara per giocarci. I due gemelli ricevono sempre una valanga di regali, dalle caramelle ai vestiti abbinati, e non potrebbero essere più contenti delle attenzioni della gente. David e Daniel hanno festeggiato il loro terzo compleanno un mese fa con una fotografia pubblicata sui social, in cui indossano due abitini coordinati. Sono entrambi stupendi nel loro completino con camicia bianca e cravattino rosso, e dall'immagine si vede chiaramente che condividono un legame molto intenso. È stata mamma Stacy a condividere la foto. Con la didascalia sono passati altri 365 giorni stupendi da quando ho ricevuto il mio regalo multicolore, quello che mi ha completato come mamma. Quando ero incinta avevo tanti dubbi e insicurezze, perché non pensavo che sarei stata in grado di crescere tre figli. Demevo che non sarei riuscita a dividere equamente il mio tempo e il mio affetto tra di loro, senza parlare della fatica e delle spese. Ma quando ho visto per la prima volta questi cuccioli, tutte le mie paure sono scomparse. Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo. Come il regalo di compleanno, David e Daniel hanno visitato un parco giochi e la mamma ha commentato in questo modo l'avventura. Non è stato facile. I bambini si sono dimenticati che non potevano vivere per sempre sulle giostre e hanno pianto per ore. Crescendo i due gemelli hanno dimostrato due personalità molto diverse. Se David è più timido e riservato, Daniel è vivace e socievole. I suoi genitori pensano che da grande diventerà un comico molto apprezzato. Per ora si diverte a girare video che condivide su TikTok e i commenti sembrano concordare con mamma e papà. Daniel ha solo tre anni, ma è già un attore provetto. Ha scherzato la mamma condividendo uno dei suoi filmati sui social. Suo fratello David, invece, è appassionato di canto e ballo e spesso compare a sua volta nei video mentre esegue le sue performance. David si imbarazza quando canta davanti alla videocamera, ma è sempre pronto a scatenarsi nel ballo. In pratica, ho un attore e un ballerino a casa, ha raccontato Stacy. Si dice che nelle coppie di gemelli ce n'è sempre uno che si comporta in modo più protettivo nei confronti dell'altro. E in questo caso, il ruolo di fratello maggiore spetta a Daniel. Ogni volta che la famiglia esce a fare compere, si assicura che David stia bene e lo segue con lo sguardo quando si allontana dal nucleo. I due gemelli sono inoltre grandi appassionati di Power Rangers. David adora il giallo e Daniel preferisce il rosso. Guardateli insieme i loro personaggi preferiti nel giorno del loro terzo compleanno. Sono anche particolarmente interessati alle bambole, una passione che condividono con la sorella maggiore. E molto spesso vanno a dormire con la loro bambola preferita sotto braccio. Le loro caratteristiche sono troppo intriganti per passare inosservate. E infatti di recente i due gemelli hanno catturato l'attenzione di numerosi marchi che li hanno scelti come modelli. David, per esempio, sta testando una linea di prodotti per la pelle per bambini albini, che dovrebbe proteggerlo dalle macchie solari che potrebbero in futuro trasformarsi in malattie gravi. Stacy ha condiviso la notizia con i fan dei suoi figli e l'azienda produttrice delle creme ha apprezzato il suo supporto. I due gemelli stanno vivendo una vita fenomenale e sono circondati dall'affetto della loro famiglia, dei parenti e degli amici. Le foto pubblicate dalla mamma sui social media le ritraggono al cinema, in piscina e in spiaggia. Sembra che tutti muoiano dalla voglia di passare del tempo insieme a loro. Ormai quando li vedono passare, molte coppie si avvicinano a Stacy e le confessano di desiderare tanto una coppia di gemelli diversi come i suoi. «Sono orgogliosa di essere la loro mamma. Non mi importa del colore della pelle. Sono entrambi i miei gioielli. Sono la mia benedizione personale», ha dichiarato Stacy. Vale la pena menzionare che la coppia non ha mai ricevuto commenti negativi sui gemelli, un particolare che ci restituisce una certa speranza sul futuro e verso un mondo migliore. Voi cosa pensate di questi due bambini speciali? Ditecelo nei commenti!